Roberto ma non ti si vede posso cominciare Roberto è allo stadio ci ha detto prima che ci lasciava andare allo stadio allora vado avanti da solo puoi cominciare ha fatto partire la registrazione va bene allora intanto grazie ad Alessandro Scassellate Sforzolini per aver accettato di passare una serata con noi e un po' di presentazione come al solito sulla sua figura di studioso io lo definirei un ricercatore e organizzatore culturale multiforme che ha alle spalle una vastissima esperienza di ricerca sul campo ricordo che dopo la laurea è stata negli Stati Uniti a lungo a partire dal 1981 a partire dagli anni 80 godendo di varie borse di una borsa internazionale Fulbright di altre borse di università statunitense New York soprattutto e di fondazioni scientifiche per lavorare alla tesi di dottorato grandi famiglia, accumulazione del capitale e potere politico in Italia è stato poi assistente ricercatore in vari dipartimenti di antropologia e di sociologia all'università di New York e ha alternato questi studi con ricerche sul campo condotte in questo periodo nel nord Italia dove ha cercato di ricostruire la storia delle famiglie imprenditoriali e finanziarie di quelle regioni in seguito ha condotto ricerche sul campo sia di carattere antropologico che sociologico per conto di vari enti pubblici e privati naturalmente non posso ricordarle tutte perché l'elenco è veramente lungo e impressionante ma per darvi un'idea delle attività che ha svolto vi ricordo solo alcuni titoli di questa ricerca sistema bancario e finanziario nella questione settentrionale per conto del CNEL poi ricerca sulle aree alpine per conto della regione Friuli-Venezia-Giulia l'economia, l'impresa e il lavoro sommerso nel mezzogiorno per conto della Confartigionato banche e territorio dai legami della tradizione alle rete dell'innovazione per la Casa di Risparmio di Firenze ha tantissimi lavori di consulenza anche per conto del Ministero dell'Interno per il Ministero dell'Università è una vastissima produzione saggistica e giornalistica sia su riviste nazionali che riviste internazionali allora il suo lavoro scientifico più importante è quello che questa sera è oggetto della sua lezione suprematismo bianco alla ridice di economia, cultura, ideologia della società occidentale deriva a Prodi 2023 ecco questo è un libro che rappresenta secondo me una chiave radicale importante e innovativa della storia degli Stati Uniti d'America e quantomeno una forma di analisi insolita radicale della società americana oggi naturalmente il fenomeno del suprematismo bianco cioè questa forma estrema di razzismo che ha esiti spesso sanguinosi nella società americana che è diciamo un aspetto abbastanza trascurato dagli storici paradossalmente trascurato perché vedete si osserva veramente poco questo aspetto della storia della società americana e gli Stati Uniti sono l'unico Stato moderno che è cresciuto e si è sviluppato avendo all'interno come proprio schiavo un intero popolo la popolazione di origine di origine africana tenuta schiava sino a epoca recente e ancora oggi è apertamente discriminata merito merito del libro di ma adesso ce ne parlerà Alessandro merito del libro di Scassellate è diciamo il suo sforzo storico ben riuscito di mostrare come il suprematismo bianco sia figlio del colonialismo europeo è una filiazione diretta è una sua incarnazione ed espansione ulteriore naturalmente il fenomeno il fenomeno del suprematismo bianco è emerso in maniera clamorosa con la presidenza Trump ma il fenomeno è profondo e ha diverse forme di manifestazione diverse ideologie diverse diverse ossessioni l'ossessione del complotto e così via diciamo il fatto che questo fenomeno riguardi la più grande potenza economico finanziaria e militare del pianeta non è secondo me senza esiti sulla condizione della nostra epoca va bene ma io a questo punto lascio la parola ad Alessandro che ci parlerà ci tratterà a te Alessandro grazie Piero chiederei a tutti di chiudere i micro così evitiamo che ci siano differenze rumori eccetera dunque io come diceva Piero sì ho fatto questo ragionamento sul suprematismo bianco chiedo Maurizio di chiudere il microfono è uno spernacchiamento che è un po' fastidioso maurizio comunque in ogni caso vado avanti allora io ho fatto un ragionamento diciamo io scrivo per una rivista online che si chiama transformazione quindi cerco di fare un articolo e questo libro è Maurizio che fa un'interferenza che è un po' molto fastidiosa non so come si può fare sono partito appunto dalla necessità di dover scrivere un articolo a settimana che i miei articoli sono piuttosto dei piccoli saggi che dei semplici articoli ecco e quindi nel maggio del 2022 quindi non molto tempo fa ecco c'è stato un caso diciamo di un giovane tra i 18 e i 20 anni che in una città dello stato di New York che si chiama Buffalo che è la seconda città più importante diciamo dello stato si è presentato tutto armato diciamo come se fosse un Marine ecco con un casco sopra il quale c'era montato una telecamera con un fucile in stile AR15 con un caricatore modificato che poteva sparare 70 colpi al minuto e deciso sostanzialmente come ha scritto e dichiarato che ha scritto poi un manifesto ecco perché in cui diceva che aveva scelto Buffalo perché guardando rispetto a dove abitava lui un soborgo a 400 km una cittadina soborgo bianca sostanzialmente a prevalenza bianca ecco lui aveva guardato gli zip code e aveva visto che c'era un quartiere a Buffalo dove c'era la più alta concentrazione di neri in tutto lo stato e forse anche di buona parte degli Stati Uniti perché Buffalo risulta essere una delle città ancora più segregate degli Stati Uniti e quindi lì c'è tipo il 90% della popolazione di questo quartiere nera quindi lui ha detto caspita questo è il posto ideale per andare a ammazzare più neri possibili possibile e quindi è partito da casa è andato dopo che aveva fatto anche già una perlustrazione è arrivato in questo come fosse un piccolo supermercato che tra le altre la comunità locale aveva fatto delle lotte per anni per cercare di avere delle attività commerciali perché il quartiere è degradato con case appunto segregato degradato con case molto con poca manutenzione a 5 km dal centro della città senza attività commerciali quindi le persone dove erano costrette a spostarsi e questo era a seguito di diversi anni di impegno civico anche delle organizzazioni del rapporto con la città con le attività commerciali erano riusciti a far aprire questo piccolo supermercato che serviva quindi la cantina del quartiere quindi lui è arrivato lì è sceso e ha cominciato a sparare praticamente in 6 minuti in 6 minuti perché poi è arrivata la polizia e lo ha bloccato è riuscito a far fuori 10 persone e a ferirne 3 di cui 2 dei 3 feriti sono bianchi gli altri erano tutti neri diciamo ecco questo è poi la polizia è intervenuta e lui si è arreso e la polizia non gli ha sparato cosa che ovviamente nella comunità locale era una delle cose su cui commentavano e che dicevano se fosse stato un nero l'avrebbero fucilato immediatamente perché voi sapete che la polizia americana diciamo è piuttosto un discorso di razzismo istituzionale a parte il caso famoso di Floyd ma continuamente diciamo se uno viene uno viene fermato un nero viene fermato per un controllo automobilistico per esempio c'è un alto rischio che venga ferito addirittura ucciso e quindi diciamo io sono partito da questa storia perché poi dopo ovviamente nelle settimane successive ce ne sono state altre per cui alla fine ho scritto tre articoli che sono stati un po' diciamo la partenza di questo libro avevo focalizzato l'attenzione appunto su questi terroristi sparatori che sono tutti giovani diciamo tendenzialmente che vengono da un ceto medio cioè non sono dei proletari incazzati diciamo sono un ceto medio bianco ecco e che apparentemente sono isolati ma in realtà la strategia di questo movimento che è il movimento del suprematismo bianco che è un movimento globale dove certamente negli Stati Uniti ha come dire diciamo dei seguaci numerosi ma è globale ci sono in Europa ci sono in Australia ci sono in Nuova Zelanda ci sono dove ci sono dove c'è popolazione bianca maggioritaria ecco tendenzialmente c'è c'è una rete che passa tutta attraverso delle forme o cellulari modello diciamo brigate rosse per intenderci oppure passa attraverso diciamo sostanzialmente il web e soprattutto le catene quelle quei quegli ambiti del web che sono il for chain il late chain cioè diciamo il web sommerso ecco la cosa interessante di questi è che poi alla fine tutti sono in contatto ci sono le chat fanno queste azioni questo ha fatto questa azione l'ha mandata in diretta ecco perché ci aveva il video montato sulla cosa e per almeno circa due minuti e mezzo questa cosa è stata vista da un certo numero di persone poi è finita su facebook e da lì poi è rimbalzata e quindi è stata vista da migliaia di persone poi dopo il video è stato tolto eccetera eccetera ma nel frattempo era già passato ora nello stesso tempo questi poi producono dei materiali allora c'è il famoso caso di Breivik il norvegese in cui in questi giorni si discute sul fatto se debba essere avere la possibilità di uscire dall'isolamento perché sono praticamente dal 2011 in carcere diciamo poi condannato ma in isolamento totale che fece fuori 77 persone nella stessa giornata prima con un attentato diciamo di Namitardo e poi andando a sparare contro i giovani socialisti nell'isola di Utoia ecco e lui aveva scritto un memoriale di oltre 1500 pagine frutto di anni di lavoro di riflessioni eccetera eccetera e tra le altre una parte dei contenuti di quel testo siccome lui è uno di quelli d'avanguardia diciamo rispetto a tutto a tutti i successivi sparatori poi tutti hanno ripreso pezzi idee sostanzialmente ma lì c'erano anche oltre che dichiarazioni diciamo così ideologiche c'erano anche però come si fanno come quali armi comprare come fare come mettere in piedi una fare una bomba cioè c'era tutto il pacchetto diciamo di informazioni ora questi manifesti appunto sono poi messi in rete oppure mandati comunque in ogni caso a tutta la rete diciamo in cui uno sta dentro e hanno alcune alcune importanti da un punto di vista ideologico alcuni aspetti interessanti uno è quello che questi sono fautori di una teoria cospirazionista appunto citava diceva anche Piero Prima diciamo la base è la teoria della grande sostituzione nella sostanza è la sostituzione della razza bianca è una teoria che diciamo non è nuova è una teoria che è stata rilanciata in Europa da Jean Raspel che ha scritto l'Isola dei Santi nel feo del 1970 uno scrittore francese un romanzo distopico in cui c'è l'invasione da parte di una popolazione di colore che viene fondamentalmente con l'idea di distruggere la civiltà occidentale bianca queste cose sono state riprese poi da sempre un francese Renaud Camus nel 2011 un allievo tra le altre di come si chiama di adesso non mi ricordo il nome comunque un filosofo francese importante e poi però c'è tutto un discorso precedente che ha a che fare con ci sono altre teoriche esplazionistiche per esempio il piano Calergi che è una storia diciamo che è inventato da un certo Gerd Onski ma precedentemente ci sono stati per esempio uno dei leader del Ku Klux Klan questo negli anni venti nei primi anni venti quando il Ku Klux Klan negli Stati Uniti veniva rilanciato certo Stottar che aveva scritto per esempio the rising tide of color against against white against the white world supremacy cioè la marea crescente del colore ecco per intenderci contro la supremazia mondiale bianca questo risale credo al 1924 ma c'era anche stato perché qui poi un pezzo importante di tutta questa diciamo ideologia suprematista bianca si rifà agli studi al razzismo scientifico a una corrente di pensiero in Italia noi abbiamo avuto un positivista che si chiamava Lombroso ecco diciamo tendenzialmente Lombroso ha criminalizzato soprattutto i criminali diciamo da una parte e i contadini dall'altra ecco soprattutto se erano meridionali misurava il cranio eccetera eccetera Madison Grant che era invece proprio riconosciuto come uno dei fondatori appunto della corrente eugenetica che è stato ha scritto ha scritto o diciamo aveva scritto un libro nel 1916 che si intitolava The Passing of the Great Race cioè la fine della grande razza intendeva ovviamente il tipo il tipo nordico perché poi gli americani sono fissati anche nelle leggi di immigrazione quelle del 1924 diciamo l'obiettivo era quello di far entrare il più possibile quelli del nord d'Europa e meno possibile quelli del sud d'Europa che non erano come noi italiani che per tanto tempo non siamo stati neanche considerati bianchi ecco la bianchezza degli italiani degli idolo americani diciamo è stata poi definitivamente come dire affermata con la seconda guerra mondiale quando poi si trattava di mandare un po' di persone al fronte quindi a quel punto è stato riconosciuto che anche gli italiani americani erano bianchi da quel momento in avanti ora diciamo che ecco quindi questo era solo per dire che io sono partito da questa situazione altri altri aspetti ecco c'è uno slogan fondamentale che tutti citano per esempio lo sparatore di Baffalo ce l'aveva inciso sul fucile oltre che parole come nigger piuttosto che altri slogan ci aveva scritto una cosa molto simbolica che era 14 il numero 14 che si riferisce all'interno di questo mondo alle 14 parole in inglese che sono quelle che in italiano sono dobbiamo garantire l'esistenza al nostro popolo e un futuro per i bambini bianchi il tema è che il popolo è il popolo bianco cioè nel senso che questi sono dei nazionalisti bianchi ecco e quindi per loro il popolo è solo il popolo bianco uno degli aspetti interessanti che per esempio in termini di contaminazione tutto questo filone appreso dalle teorizzazioni diciamo così di sinistra chiamiamole così insomma degli anni settanta in particolare da credo da Guattari e De Luz è quella dell'accelerazionismo cioè che nel caso da sinistra il tema era quello che siccome il capitalismo contiene all'interno di se stesso delle contraddizioni ecco quindi bisogna fare in modo che queste contraddizioni vengano accelerate per dire il rifiuto del lavoro salariato rispetto all'innovazione tecnologica oppure la mobilitazione della classe operaia porta a un'accelerazione poi dell'investimento tecnologico e quindi il capitalismo accelera la sua trasformazione questo era per dire la sinistra cercando di giocare sulle contraddizioni questi fanno il discorso del terrorismo per loro è un aspetto dell'accelerazionismo perché ovviamente il tema è quello di creare una condizione di guerra civile ecco ci sono c'è questo Peers che è uno di quello che da questo punto di vista ha teorizzato l'accelerazionismo ha scritto una roba che è fondamentale rispetto a tutto questo mondo che sono i diari di Turner i Turner Diaries dove sostanzialmente fa tutto il quadro di dove bisogna andare bisogna andare verso la guerra civile che significa costruire delle milizie e quindi qui ci avviciniamo anche rispetto alla realtà più recente il ruolo delle milizie tipo quelli che abbiamo visto all'opera diciamo il 6 gennaio del 2021 ecco i Proud Boys e altre e nella sostanza milizie armate che devono essere pronte a scatenare una guerra civile decentralizzata dove si spara a chi sostanzialmente si spara chiaramente ai neri agli ebrei ai musulmani e poi anche all'FBI alle forze di polizia ai politici diciamo progressisti eccetera eccetera ora detto questo insomma diciamo che c'è un aspetto questo è l'aspetto diciamo terroristico che poi ha una continua evoluzione nel senso che continuamente avvengono sparatorie sostanzialmente io quando ho scritto questo articolo appunto nel giro di qualche mese c'era stata poi una clamorosa sparatoria anche lì simile a questa a questo soggetto di Baffalo a El Paso dove uno che abitava in un tranquillo quartiere bianco di soborgo di Houston credo messo in macchina anche lui si è fatto diverse ore di auto è uscito in un Walmart in un parcheggio di un Walmart e lì ha cominciato a sparare cercando di far fuori il più possibile i messicani ecco perché poi ovviamente i messicani sono anche quelli un target diciamo come gli asiatici ed altri è importante non essere bianchi allora detto questo io mi sono reso conto poi nello stesso tempo che siccome erano ancora diciamo c'erano i cascami diciamo del trumpismo in evidenza che c'era poi tutta la tutta la parte del diciamo del suprematismo non terroristico il suprematismo rispettabile no che è fatto poi sostanzialmente di persone che stanno dentro i team tank di destra politici repubblicani e non solo commentatori televisivi come carlson che all'epoca lavorava fox news quindi molti di quelli di fox news per esempio loro rispetto alla sostituzione alla grande sostituzione di cui carlson per esempio nel suo programmi parlava molto non non facevano riferimento a per dire alla cospirazione fatta da una cabala sostanzialmente dominata dagli ebrei non parlavano degli ebrei perché i suprematisti terroristi sostanzialmente sostengono che dietro tutto questo ci stanno c'è Soros ci sono gli ebrei c'è diciamo oltre che ovviamente poi se uno va su Canon cioè ci sono c'è la tesi che appunto per dire Trump sta combattendo da anni contro questo gruppo di potere che pedofilo che poi sequestra i bambini si diciamo si ciba di sangue quindi si può andare in territori molto molto diciamo truci e anche piuttosto anche fantasiosi voglio dire molto distopichi eccetera però c'è questa parte rispettabile di gente che appunto in giacca e cravatta che fa dei lavori di comunicazione e che insiste sul fatto che per dire negli Stati Uniti ci sono circa stimati 12 milioni di persone regali cioè nel senso clandestine che non hanno permesso di soggiorno e che lavorano la maggioranza dei casi che fanno lavoro sommerso allora c'è un tema di legalizzare di fare come facciamo noi cioè fare una come le chiamiamo noi regolarizzazioni ecco allora questa roba alla destra i repubblicani chiaramente dicono i democratici vogliono fare la regolarizzazione perché poi così questi votano per loro e questi su tutti chi sono messicani sono centroamericani sono afrodiscendenti sono africani perché vedete adesso che siccome l'Europa ha chiuso per esempio in questo periodo sta chiudendo l'accesso agli africani sia che uno arrivi in forma legale anche con un discorso di studio per esempio la Francia adesso ha fatto tutta una serie di forme rispetto ai visti per studenti che possono venire dal Maghreb eccetera allora praticamente ormai la rotta è passare dall'Africa cercare di arrivare in centroamerica e poi mettersi in cammino con altre migliaia di persone soprattutto del centroamerica o di Cuba ecco perché i cubani vanno in Nicaragua poi dal Nicaragua perché non ci hanno bisogno di visto e poi dal Nicaragua si mettono a piedi a camminare o con passaggi o con autobus quello che è passando attraverso quel posto terrificante che è la foresta diciamo di Darien a Panama uno dei posti più pericolosi del mondo per tanti motivi ecco e poi cercano di arrivare in Messico e poi dal Messico e cercano di entrare negli Stati Uniti ecco per essere chiari allora questi 12 milioni vengono visti come possibili strumenti di sostituzione no? sostituzione ecco ora io sono partito da queste cose da questo ragionamento da questi fatti da cercare di analizzare appunto poi materiali rispetto a questi soggetti però mi sono reso conto poi sostanzialmente e qui da qui poi nasce il libro che questo fenomeno del suprematismo bianco è un prodotto storico è un costrutto ideologico frutto di un processo storico e quindi diciamo è un suprematismo sta a significare l'affermazione della supremazia dell'uomo bianco in particolare sottolineo uomo ecco perché c'è tutta c'è tutta una dimensione non solo di chi segue diciamo di chi poi è un attivista di questa di questa realtà ma poi anche rispetto a all'ideologia che è fondamentalmente una riaffermazione del patriarcato tanto per essere chiari tanto è vero che negli Stati Uniti si è vista la battaglia fatta sulla questione dell'aborto il tema del controllo riproduttivo delle donne dei loro corpi è stata una delle battaglie degli ultimi 30 anni ma negli ultimi anni poi la destra è riuscita a portare a casa l'abrogazione della sentenza Russell Wade grazie a una corte costituzionale che Trump in cui Trump aveva afficcato tre tre giudici tutti cattolici ma preconciliari quindi Bergoglio non gradirebbe molto questi 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 questa tipologia di cattolici e e quindi poi alla fine la sentenza è che è stata quella di credo che si chiami Ferguson e che ha abolito il di fatto il diritto il diritto di aborto federale no? Quindi nella sostanza si è mandato tutto ai singoli stati e siccome i singoli stati di questi singoli stati ventisei sono controllati dei repubblicani maschi bianchi siedono dentro il congress dei vari stati buona parte di questi stati se non quasi tutti ha fatto delle leggi che come il Texas dove praticamente è diventato impossibile abortire anche nel momento in cui la donna è a rischio della propria pelle quindi questo è poi sono effetti molto concreti di queste di questa di tutta di tutta sta roba e e e quindi bisogna una donna deve o deve avere la possibilità economica di andare in uno stato all'altra parte dove è possibile abortire se deve abortire per qualsiasi sia la causa ecco ma qui ci sono questi adesso una delle una degli elementi di fondo di base del programma di Trump nelle prossime elezioni del 24 è che se lui diventa presidente i repubblicani avranno la maggioranza alla camera e al congresso imporranno diciamo una legge dove l'aborto sarà vietato in tutti gli Stati Uniti quindi anche gli stati non c'è bisogno più neanche della legge che lo vieta ma e anche poi intervenire su probabilmente su temi come la contraccezione eccetera perché uno dei temi di fondo di chi è un suprematista bianco e io penso che i trampiani che attualmente controllano il partito repubblicano lo siano in buona misura è che nella sostanza siccome la contrapposizione è tra vista giocata e pensata in termini di contrapposizione razziale ecco il tema è che bisogna fare figli figli bianchi quindi bisogna mettere le donne bianche a fare figli perché se no il popolo la nazione bianca viene diventa minoranza e di fatto diventerà minoranza perché attualmente i bianchi negli Stati Uniti così considerati i casici come fanno nelle varie diciamo statistiche americane vengono definiti ecco sono sostanzialmente il 61% della popolazione americana considerate che però ogni anno arriva un milione di persone nuove che questi arrivano a prescindere da quelli che stanno in Messico che passano il confine perché sono sostanzialmente legali perché si fanno ricongiungimenti familiari e siccome negli ultimi anni i messicani diciamo i cinesi e così via sono stati tra quelli più che sono entrati maggiormente ecco le reti siccome il sistema il sistema di immigrazione degli Stati Uniti è voluto ai tempi di Johnson come riforma rispetto alla precedente legge del 1924 che aveva chiuso praticamente le frontiere aveva constabilito delle quote per cui gli italiani potevano entrare 3875 italiani all'anno proprio perché noi eravamo considerati in una categoria non gradita diciamo ecco mentre invece che ne so agli inglesi tedeschi addirittura gli irlandesi eccetera avevano migliaia e migliaia di cose ma gli africani che potevano entrare erano mille in tutta l'Africa tanto per essere chiari questo era perché era pensato per dire siccome questa cosa questa cosa evita diciamo di scompaginare gli equilibri razziali all'interno degli Stati Uniti poi dopo nel periodo Johnson si riuscì a fare la riforma e invece si tolsero le quote sostanzialmente e si introdusse questi discorsi misti ma poi fondamentalmente il tema dei ricongiungimenti familiari e quindi si sono create le famose catene di immigrazione per cui nella sostanza io per dire ho mio figlio a New York mio figlio mi potrebbe chiamare io mi congiungo con lui in cinque anni divento cittadino americano molto semplicemente allora questo è il grosso dell'immigrazione che sta avvenendo negli ultimi anni questo milione è quasi tutto fatto da sta roba poi c'è gente che va lì per lavoro che ci ha permessi cose di questo genere ora nel 2045 2045 sembra lontano ma i bianchi saranno minoranza questo è considerate che dieci anni fa invece del 61% erano il 72% questa roba sta creando un'ansia terrificante nella popolazione bianca soprattutto nella popolazione bianca che diciamo di vari strati sociali sia del diciamo del ceto medio ma anche della classe lavoratrice e quindi diciamo è uno degli elementi di grande tensione che crea poi anche un tema di emergenza per cui giustifica in chi crede in queste cose la necessità di fare degli interventi appunto violenti immediati fare qualcosa per fermare questa che sembra alternativamente una condanna diciamo della popolazione bianca essere minoranza ora diciamo ecco io solo nella mio ragionamento sono partito da questo discorso della storia perché ovviamente sì gli Stati Uniti sono un caso che io ho cercato di guardare bene proprio perché diceva Piero siccome ci sono stati c'erano alla fine della guerra civile 5 milioni di schiavi liberati che vengono sono stati liberati alla fine che erano stati portati negli Stati Uniti poi in realtà molti di questi erano molti di più quelli portati perché anche diciamo molti molti morivano soprattutto nelle piantagioni nelle condizioni eccetera comunque c'erano 5 milioni al momento del 1865 alla fine della guerra civile e quindi poi diciamo oggi credo che siamo nell'ordine di una ventina 20 milioni adesso non mi ricordo le cifre esatte ma insomma e quindi c'è sempre stata questa componente tanto è vero che poi al di là di tutto c'è stato un periodo che gli Stati Uniti hanno pensato di liberarsi del problema dei neri e di rimandarli in Africa tanto è vero che si erano inventati la Liberia insomma che doveva essere l'avanguardia di questo discorso di rimandarli dall'altra parte proprio per eliminare il problema quindi è sempre stata una società multiraziale multiculturale da questo punto di vista considerando che il primo i primi afroafricani portati negli Stati Uniti almeno dal punto di vista dei coloni inglesi poi c'erano già stati gli spagnoli in particolare in Florida che avevano portato sicuramente degli africani schiavi risalgono al 1619 che è praticamente un anno prima di quando sono arrivati i pellegrini nel New England i famosi pilgrims che sono i padri fondatori e quindi diciamo dal 1619 qui è cominciato con la Virginia poi dopo però poi dopo gli schiavi sono stati fondamentali e questa è stata tutta una gestione in mano agli inglesi che facevano in quel momento controllavano il business perché poi vi ricordo semplicemente che tabacco e cotone quindi le piantagioni ma anche il riso sono un'invenzione diciamo di questa fase coloniale che poi si è trascinata fino a oggi perché in realtà la piantagione è l'avanguardia dell'agricoltura industriale contemporanea diciamo ecco nelle sue forme adesso non c'è più lo schiavismo come c'era all'epoca però c'è c'è molto lavoro molto lavoro sfruttato ecco ancora oggi insomma ora io sono per fare un discorso storico ecco poi adesso per fare un discorso storico io penso che bisogna partire dalle crociate ma non perché bisogna guardare le crociate come fatto in sé ma perché durante le crociate venne il papa per dare un incentivo ai famosi cavalieri principi cristiani per andare a combattere queste crociate gli fece uno di questi queste dichiarazioni diciamo ufficiali del papa che hanno un nome che adesso non mi viene in mente ecco e che in sostanza diceva che qualsiasi terra uno avesse conquistato in mano al musulmani in quel caso sarebbe stata considerata terra nullius terra di nessuno quindi uno se la poteva appropriare ok e quindi diventava poi proprietà di chi lo conquistava dopodiché le crociate sono state combattute soprattutto tra cristiani perché c'era diciamo Bisanzio Antiochia c'erano più che combattere con i musulmani cioè poi per carità anche questo è stato fatto ma era una questione forse molto interna al al mondo cristiano mentre invece nel 1492 che è l'età momento in cui bisogna partire secondo me per capire questo discorso del 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 suprematismo ecco lì il papa che era Alessandro VI Borgia spagnolo ecco fece una mediazione di fatto tra gli spagnoli e i portoghesi in cui venne stabilito che questo mentre Colombo stava viaggiando verso i Caraibi per intenderci ecco lui fece questa questa mediazione tra gli spagnoli e i portoghesi in cui praticamente stabilì che tutto quello che stava al di là di un certo meridiano ecco era di competenza degli spagnoli e invece a sud di quel forse parallelo ecco più che meridiano era invece di competenza dei portoghesi e fu così che i portoghesi si sono presi l'Africa sostanzialmente e infatti i portoghesi sono stati quelli che hanno inventato la tratta degli schiavi perché sono quelli che diciamo hanno avuto il primo monopolio sostanzialmente rispetto a voi sapete che la tratta degli schiavi i bianchi diciamo noi europei abbiamo avuto una responsabilità tra virgolette indiretta nel senso che non siamo andati lì a prendere materialmente gli schiavi a conquistare a fare guerre e a prenderli prigionieri questa roba veniva tutta fatta dagli africani stessi nella logica in cui noi ovviamente incentivavamo incentivavamo questo processo perché in quella fase storica in Africa c'era un processo se non processi di formazione di stati o di imperi e quindi noi armavamo diciamo una parte delle parti oppure diciamo commerciavamo fornivamo diciamo tutta una serie di diciamo di materiali e questi poi andavano e facevano le razzie le conquiste che erano funzionali al fatto che loro c'erano degli stati in formazione quindi poi alcuni di questi erano chiaramente basati su questa idea di fare di fare schiavi non solo da commerciare con con gli europei ma anche da commerciare ma anche da utilizzare all'interno del loro modo di produzione per intenderci ecco quindi diciamo noi gli europei si sono gli europei in Africa sono entrati solo dopo la conferenza di Berlino realmente a parte diciamo le coste meridionali le coste settentrionali dell'Africa con la conferenza di Berlino 1884 85 in cui praticamente ci fu la corsa all'Africa siamo nella fase dell'imperialismo la fase molto successiva quindi dove vi ricordo per esempio che il famoso re Alberto del Belgio mi sembra che si chiamasse Alberto ecco si prese si prese il Congo ecco diventò il proprietario personale diciamo proprietà personale del re del Belgio ecco e da cui poi una serie di disastri ci sono dei libri incredibili c'è un libro che ho letto qualche anno fa che ricostruisce la storia del Congo che è una sequela di massacri ininterrotti fino a oggi ecco oggi poi legati tutto il tema dei perreare piuttosto che minerali strategici e cose di questo genere ma nella sostanza ecco e sono sono circa cento quanti sono centocinquanta anni ecco che praticamente è sempre sotto continuo e prima c'era anche sicuramente venivano anche razziati dalle da quelli che stavano sulle coste venivano razziati per fare per prendere gli schiari perché ecco il tema del pensate soltanto la distruzione cosa ha voluto dire per l'Africa soprattutto l'Africa subsahariana la tratta degli schiavi che era fatta da noi ma anche dagli arabi perché dall'altra parte c'erano gli arabi che partendo dalle coste commerciale danzibar eccetera hanno fatto anche loro diciamo hanno fatto ampiamente uso ma cosa ha voluto dire 12 avere 12 milioni meno i nostri 12 milioni e mezzo di africani trafficati considerate che nel viaggio solo uno su quattro arriva all'altra parte molti morivano la maggioranza moriva di fatto e poi tutto tutto il displacement cioè tutto lo sfollamento perché chiaramente bisognava fare le guerre e quindi poi c'era popolazioni come oggi succede che la gente si spostava e quindi l'Africa veramente è stata massacrata diciamo in questi due in questi cinque quattro secoli perché appunto diciamo qui il discorso del traffico parte praticamente da subito considerate che i portoghesi hanno sperimentato la piantagione da zucchero diciamo periodo forse addirittura prima della scoperta di Colombo nell'isola di Sautomè che venne scoperta non c'era nessun nessun abitante e quindi poi hanno sperimentato lì i portoghesi invece gli spagnoli nelle canarie le piantagioni da zucchero e Sautomè fu un business pazzesco per circa 50 anni poi dopo sono arrivati i caraibi e quindi è stato il business diventato molto meno lucroso ora diciamo che quindi in 1492 c'è il Papa Borge che divide il mondo nel nostro tempo c'è Colombo che arriva ai caraibi nello stesso tempo e l'anno della fine della reconquista della Spagna e questo è importante perché la Spagna è fino a che poi non arrivano gli olandesi non arrivano gli inglesi eccetera insieme a Portogallo che aveva completato la sua riconquista qualche anno prima e la prima mossa che il Portogallo ha fatto era andare dall'altra parte passare verso l'Africa aveva preso Ceuta che oggi è un possedimento spagnolo che era un terminale delle carovane delle carovane subsahariane che venivano da Subsahara ecco perché e qui c'è questo passaggio importante per cercare di semplificare cioè voi sapete che la reconquista è una cosa che ci è voluto qualche secolo per arrivarci ed è poi quella che ha creato diciamo questa aristocrazia spagnola che ancora oggi diciamo oggi è un po' ha perso colpi però voglio dire è stato uno degli elementi anche importanti del regime di Franco tanto per essere chiari e quindi ha avuto poi un periodo di resistenza molto molto lungo e il problema è che questi facevano delle guerre e c'era un problema di pagarle quindi questi hanno fatto l'alleanza con i mercanti ecco questo è importante in particolare poi gli spagnoli erano fatta con i genovesi per cercare di fottere detto molto chiaramente i veneziani che avevano fino allora il monopolio del traffico di tutto tutto il traffico con l'Oriente infatti Colombo voleva andare verso pensava di arrivare diciamo in Oriente non di arrivare in un nuovo continente diciamo perché lì lì era il mondo civilizzato perché l'Europa era semplicemente una propagine euroasiatica diciamo del continente euroasiatico ed era rispetto alla Cina tanto per essere chiari era una roba molto molto arretrata no la Cina era assolutamente dove tutti volevano arrivare e dove anche i romani cercarono di commerciare però il problema vero era che non c'avevi niente da dargli che a loro interessasse e quindi o pagavi in argento oro o altro oppure diciamo poi alla fine tu eri interessato al tè alle sete alle porcellane a tutte quelle belle cose prodotti di lusso per l'elite però poi con cosa li paghi e quindi c'era un problema di sbilanciamento dei pagamenti come dire tant'è vero che gli inglesi dopo la conquista del Bengala stiamo parlando quindi diciamo alla fine del diciottesimo secolo e all'inizio del diciannovesimo si sono si sono inventati l'oppio no per cercare di trovare qualcosa che ai cinesi potesse interessare che non fosse l'argento l'oro o altre cose preziose quindi poi sappiamo come è andata la guerra dei boxer eccetera e il fatto che la Cina è diventata è diventata dipendente cioè sono riusciti a infilare l'oppio e farli diventare dei drogati in massa ecco e la Cina si è vissuta quello che i cinesi oggi chiamano il secolo della come si dice della mortificazione insomma per intenderci che è arrivato fino a l'umiliazione l'umiliazione fino al 1949 quando poi diciamo Mao e i comunisti sono andati al potere e oggi abbiamo visto poi in questi decenni che cosa questo è cambiato allora io adesso mi rendo conto che il tema diventa complicato e quindi vorrei cercare di arrivare a casa però ecco quello che volevo dire questa cosa del nullius terra nullius è importantissima perché poi John Locke per dirne una teorizzò filosofo importante inglese teorizzò proprio questo cioè il fatto che la giustificazione per cui i coloni o insomma diciamo i poteri coloniali potessero prendersi le terre era che c'erano queste popolazioni che però erano lo stato naturale al stato naturale quindi non erano civiltà non erano civilizzazioni e quando uno sta al stato naturale allora sta c'è la legge naturale un'altra cosa che non è quella invece della legge della civiltà e quindi la legge della civiltà era si applicava all'uomo bianco e all'uomo bianco ovviamente un uomo bianco particolare un uomo bianco diciamo con possibilità con con beni e e la proprietà veniva giustificata nel fatto che questi applicavano il lavoro per produrre cibo no il problema è che in realtà poi per produrre cibo non erano quelli che lavoravano perché alla fine questi hanno utilizzato prima per esempio nel sud america hanno cercato di usare le popolazioni locali e morivano come mosche e quindi negli Stati Uniti ci hanno provato ma poi alla fine se per fare le piantagioni ci volevano gli schiavi quindi in realtà questo poi è un meccanismo per giustificare il fatto che lo schiavismo era un elemento necessario io adesso ci sarebbero tante altre cose da dire rispetto a tutta questa fase ecco però io sono interessato a cercare di portarvi poi al punto che mi interessa anche se poi mi rendo conto che non c'è il tempo per svilupparlo il punto che mi interessa è perché allora c'è tutto questo consolidato di oltre 500 anni che abbiamo costruito nel rapporto tra noi bianchi diciamo noi perché noi siamo io sono bianco non posso non posso negarlo diciamo e il resto del mondo delle popolazioni colorate che è stato quello appunto del genocidio del saccheggio dello sfruttamento dello schiavismo diciamo del del imporgli la proprietà privata cioè molte di una parte di queste popolazioni non sapeva proprio non c'era proprio il concetto di proprietà privata l'abbiamo portato noi l'abbiamo imposto abbiamo imposto e quindi diciamo ecco ora però tutto questo poi si intreccia con lo sviluppo perché c'è una fase mercantilista le piantagioni la cosa però c'è poi la rivoluzione industriale quindi nasce il capitalismo e quindi poi dopo abbiamo diciamo l'imperialismo cioè il tema delle materie prime delle risorse dell'estrattivismo che è un tema sono temi che ci portiamo dietro fino a oggi non è che abbiamo risolto continuiamo esattamente a fare così ecco non c'è più la forma politica diretta dell'impero coloniale però nella sostanza nel rapporto tra multinazionali cleptocrati locali regimi diciamo più o meno autoritari che ci sono nei vari contesti del sud del mondo ecco noi abbiamo continuiamo attraverso le multinazionali i rapporti i rapporti diciamo ineguali eccetera eccetera squilibrati a sfruttare questo allora io però ecco la cosa che mi interessa puntualizzare perché io poi faccio tutto un ragionamento per esempio nel libro sulle fasi varie del capitalismo e cosa significa e quali sono le implicazioni però vorrei arrivare a oggi ecco e oggi per arrivare a oggi bisogna ragionare sul neoliberismo cioè sulla rivoluzione neoliberista perché il suprematismo secondo me è un sintomo della crisi del neoliberismo che si trascina questo cadavere che si trascina che però non si riesce a dargli un esito diverso e nello stesso tempo è anche quello che noi vediamo le guerre di cui parlavamo prima la Palestina ma anche l'Ucraina ma anche tante altre guerre il tema vero è che c'è appunto come il Papa dice una terza guerra mondiale a pezzi che viene combattuta nella sostanza tra l'occidente e il sud globale nelle varie sue forme ecco e questa roba quindi il suprematismo è una carta che ci si può giocare per cercare di mobilitare diciamo tutti alla guerra sostanzialmente ecco da una parte dall'altra la crisi del neoliberismo e quindi poi il caso trampiano è evidente ma si può ragionare su quello che sta succedendo in Germania dove i temi diventano quelli dell'immigrazione come capo espiatorio di tutto cioè il neoliberismo aveva fatto delle promesse fantastiche che ci avrebbe riportato noi venivamo dalla crisi del 73 quadruplicamento del petro prezzo del petrolio la crisi del fordismo chenesiano l'inflazione stagflazione stavano nei casini diciamo l'occidente ecco e si è si è fatta la rivoluzione conservatrice neoliberista con l'idea che è stata venduta questa roba avrebbe ripristinato Maurizio si è ripetito col suo gorgheggio ci avrebbe riportato a benessere e tanta libertà non era un tema di democrazia ma quanto di libertà e ognuno è il preditore di se stesso la realtà è stato poi realizzato cosa precarizzazione del lavoro Maurizio precarizzazione del lavoro la fine dell'ascensore sociale il famoso discorso che i nostri figli sarebbero stati meglio dei genitori dei padri le disuguaglianze è uscito non so se avete visto in questi giorni uno studio della Banca d'Italia sul fatto che il 5% degli italiani ricchi possiede oltre il 46% mi sembra di tutto di tutti i beni italiani diciamo ecco quindi in realtà il neoliberismo e qui ci sono dei dati internazionali ha diminuito diciamo la globalizzazione da questo punto di vista ha diminuito le differenze di ricchezza tra i paesi cioè nel senso che per esempio in Cina sono usciti si sono eliminati 800 milioni di poveri cioè quindi voglio dire è chiaro che diciamo ci sono stati dei miglioramenti però le differenze le disuguaglianze non sono a merito del neoliberismo della globalizzazione Alessandro della politica cinese sì la politica cinese però chiaro poi dopo messo dentro un quadro storico di periodizzazione però quello che volevo dire è che sono aumentate le disuguaglianze all'interno degli stati sia dell'occidente ma anche della Cina stessa anche dei paesi arabi Sud America Sud America è uno dei continenti dove c'è una maggiore disuguaglianza sociale economica praticamente siamo tornati se uno guarda i coefficienti Gini a cento anni fa nei rapporti cioè questo è stato il neoliberismo da un punto di vista oltre tante altre cose ma nella sostanza oltre che poi lo smantellamento per esempio da noi anche negli Stati Uniti del welfare che state che era stato costruito è stato inventato e poi su questo il centrosinistra ha delle responsabilità perché i vari Blair Schröder o Clinton sono quelli che si sono inventati cose come il work fair cioè dove i poveri sono criminalizzati si torna diciamo all'Inghilterra vittoriana dove in sostanza non ci sono le work houses ma adesso anche qui con il reddito di cittadinanza l'abbiamo vista come è andata a finire è sempre un discorso lavoristico dove tu sei un fannullone e non sei un povero che povero è una cosa complessa cioè sociologicamente ci si potrebbe ragionare allora il mio ragionamento per arrivare al fondo è questo che la crisi del neoliberalismo è stata conclamata diciamo con la crisi del 2008 2009 siamo nel 2023 e non c'è nessun cavolo di cambiamento anzi noi stiamo pronti in Europa a rimettere in piedi il patto di stabilità in Germania tornano lo schwarz null e quindi austerità di nuovo come prospettiva allora è chiaro che poi noi abbiamo visto cosa è successo dopo il 2008 2009 c'è stata quella che il mainstream chiama il populismo ecco il populismo cioè la reazione di chi della classe lavoratrice che è stata frantumata nel processo nel processo neoliberista perché appunto la precarizzazione Alessandro scusami occhio al tempo perché ho finito ho finito sto finendo e la delocalizzazione tutto tutto quello che sappiamo dall'altra il ceto medio che diciamo alcuni alcuni pezzi del ceto medio sono riusciti a essere cosmopotriti e stare dentro l'economia globale come i grandi consulenti questi qua ma la maggioranza del ceto medio in realtà essere imprenditori di se stesso diciamo ha portato a delle grosse delusioni ecco allora qui adesso il tema è quello di come se ne esce da questa crisi da questa situazione da questo impasse e il punto è che diciamo lo vediamo diciamo il suprematismo diventa una delle carte da giocare da parte di forze centriste dalla parte ma soprattutto le forze conservatrici in alleanza probabilmente con le forze centriste poi dopo loro non lo chiamano così però noi abbiamo visto noi in Italia abbiamo la Meloni e il suo ministro nonché parente Lollo Brigida ha fatto un incidente di percorso richiamando la teoria della sostituzione cioè questi stanno dentro sto discorso poi sono rispettabili ecco torno a ripetere magari non spareranno non hanno rapporti dicono di non avere rapporti con quelli di H a la Renzia però voglio dire che fanno il saluto romano però diciamo questo è è il clima culturale a me dispiace perché ci sono tanti altri elementi il mio libro è anche piuttosto sofisticato e complicato però mi rendo conto che ecco di così non riesco a fare grazie però se ci sono domande sono pronto a rispondere grazie Alessandro ho una lezione molto ricca e naturalmente un materiale difficile da dominare perché diciamo c'è la registrazione dei fenomeni attuali nello stesso tempo la necessità di uno sguardo storico di lungo periodo ecco sei riuscita a mettere dentro anche anche le crociate che non è diciamo una trovata balzana ma è diciamo un passaggio sia pure appena accennato necessario per comprendere per comprendere tutto tutto uno svolgimento io adesso do la parola a chi vuole intervenire aggiungo alcune cose ecco vedo che c'è Pino e Polito Arminio gli do subito la parola vorrei solo ricordare un aspetto diciamo valorizzare un aspetto delle cose che ha detto Alessandro perché io ho voluto che lui facesse una lezione su questo tema del suprematismo bianco per poter fare come lui ha fatto una riflessione sull'occidentalismo cioè sul concetto di occidente che oggi è anche a livelli diciamo intellettuali più raffinati una forma di giustificazione dell'atlantismo del bellicismo dei massacri del disordine del disordine politico internazionale si difende si difende l'occidente allora Alessandro ha giustamente ricordato la scoperta dell'America la scoperta dell'America lo voglio ricordare perché diciamo tutti noi che abbiamo fatto buoni studi abbiamo studiato al liceo abbiamo studiato su buoni manuali di storia non sappiamo abbiamo guardato a questo evento del 1492 come diciamo un atto eroico come alla conquista di un nuovo mondo eccetera ecco come si è scoperto come ha scoperto poi la ricerca storica per dirla con le parole di Todorov Zetan Todorov la scoperta dell'America è stata il più grande genocidio della storia umana il più grande genocidio Alessandro ne ha fatto ne ha fatto alcuni cenni quindi quello che noi glorifichiamo come un grande momento di passaggio nella storia della civiltà umana si fonda sul sangue di milioni di esseri umani sapete la demografia di paesi come il Cile il Perù eccetera è crollata lo ricorda anche Fernand Brodel ci sono voluti secoli perché questi paesi tornassero ad essere ripopolati in proporzione alla vastità dei propri territori quindi diciamo questo occidente che ha naturalmente tanti meriti culturali scientifici artistici eccetera è anche questo e noi non possiamo assolutizzarlo e soprattutto non possiamo metterlo a servizio di una causa che è quella dell'impero americano perché parliamoci con chiarezza è l'impero americano che detta regole all'occidente oggi e se non si blocca questo diciamo questa supremazia il mondo rischia rischio grosso grazie Alessandro Pino a te la parola grazie tanto complimenti e grazie ad Alessandro per questa bellissima lazione questo profilo storico sul suprafatismo e le sue propaggini moderne volevo chiedere se è nota la consistenza la dimensione di questo movimento che è definito giustamente globale in Europa e in particolare in Italia al di là della più o meno rispettabilità immagino sia anche un termine un po' che tu con una buona dose di eufemismo però a che punto siamo in Italia qual è quanto vale quanto pesa questo movimento in Europa e in Italia possibilmente grazie in Italia guarda c'è c'è stata una ricerca fatta da due giovani che hanno vinto anche il premio premio giornalistico importante che hanno fatto un'inchiesta che si chiama Bungo Nero e sono riusciti a entrare dentro questa rete dei siti diciamo delle chat e viene fuori veniva fuori sostanzialmente viene fuori un po' come succede anche appunto in questi casi terroristici americani che c'è tutto un mondo che è difficile quantificare perché è chiaro che non sono di massa considera questo che per esempio in Germania la polizia fa continuamente operazioni come dire di arresti di cose eccetera e ci sono diverse organizzazioni che sono state scoperte negli ultimi anni che sono proprio dichiaratamente suprematiste e poi ci sono stati casi è stato un caso a Nao di qualche tempo di un paio d'anni fa dove quando io scrivevo le cose di uno che si è presentato e ha sparato diciamo lì c'era la questione dei turchi e dei curdi ecco e quindi lì ovviamente poi ogni suprematista ha il suo nemico cioè voglio dire può essere il nero può essere il curdo il musulmano il messicano eccetera ma diciamo ecco si parla molto spesso poi considerate che ecco un personaggio come Putin su alcune cose io ho visto ha letto molti suoi discorsi ecco c'ha delle posizioni che sono esattamente coincidenti con alcune delle teorizzazioni del suprematista bianchi anche se lui poi le gioca contro di noi nel senso che appunto fa un ragionamento poi rispetto al fatto che diciamo è l'occidente che poi in realtà è suprematista rispetto alla Russia quindi diciamo è un fenomeno che è tutto sotto traccia questo è sicuro non c'è diciamo poi ci possono essere dei momenti in cui emerge noi abbiamo avuto il caso di Luca Traini in Italia per esempio ecco Luca Traini è uno che viene citato nei manifesti di questi sparatori in Nuova Zelanda piuttosto che negli Stati Uniti viene considerato uno degli eroi diciamo uno dei loro idoli ecco Traini era uno che poi si candidava con la Lega e c'aveva il Mein Kampf sul coso del diciamo vicino al letto e la croce sceltica nella come si chiama dietro la testata del letto ecco per dire molto chiaramente quindi è una situazione io credo cioè il vero problema e credo che nei prossimi nel prossimo futuro è che questa capacità comunicativa che comunque questo mondo ha ha una grande capacità comunicativa soprattutto appunto nel mondo social eccetera in un momento di grave crisi come quella che credo verso la quale stiamo andando considerando io oggi ho pubblicato un articolo sulla Germania la Germania sta nel caos è una situazione da tempesta perfetta e se la Germania continua a essere in recessione nel 2024 per tutta l'Europa sarà un caos ecco da un punto di vista considerando che stiamo andando anche per elezioni europee quindi ci sono poi già regimi come quello di Orban ecco Orban è uno è un eroe di tutto il mondo rispettabile ecco rispettabile uno che viene sempre invitato a tutte le conferenze di questa organizzazione dei cristiani della famiglia il CPAC dove anche la Meloni è andata varie volte ecco e viene portato con un palmo di mano quelli i repubblicani americani guardano la Orban come un modello ecco dico solo questo quindi diciamo c'è da preoccuparsi parecchio vediamo io sono giusto perché un secondo per dire una cosa riprendere una cosa che diceva Piero io in realtà ho scritto questo libro perché era era il discorso che siccome appunto ho studiato ho avuto la fortuna di riflettere di fare cose ecco però poi ho pensato che non mi non mi potevo sottrarre era un fatto politico etico e quindi nel mio piccolo ho cercato di come dire di costruire una grande narrazione possibilmente perché penso che ci sia bisogno in questa fase di grandi narrazioni perché bisogna ricostruire un po' anche le categorie anche i processi eccetera ecco e io credo che questa roba lui diceva la leadership americana senz'altro perché in questa fase ovviamente il tema vero è il confronto tra l'occidente e il sud globale nella sostanza questo è e sappiamo i BRICS tutto quello che abbiamo che sappiamo ecco quindi c'è c'è la Cina c'è finalmente da questo punto di vista adesso poi non dovrei dirlo perché è chiaro che io faccio parte del mondo occidentale però per la prima volta in cinque secoli c'è finalmente un avversario vero ecco cioè nel senso che qui dall'altra parte non c'hai solo diciamo i beduini del deserto ma c'hai un mondo che ormai si muove su gli aspetti tecnologici di frontiera è in grado di costruire le supply chains globali eccetera quindi sarà una battaglia dura io torno a ripetere però ci abbiamo 40 anni ecco 40 anni e questo è uno dei motivi per cui ho scritto gli scienziati ci dicono che 40 anni non abbiamo più tempo di questo per cercare di salvare noi stessi dall'estinzione per la questione del surriscaldamento climatico e della distruzione della biodiversità allora il punto è che se noi passiamo i prossimi anni a fare guerre e invece di mettersi seduti a un tavolo tra gli Stati Uniti la Cina la Russia e tutti gli altri cioè si scelgono queste strade che sono di assoluta demenza da un punto di vista poi reale per una logica del fatto che gli Stati Uniti non vogliono accettare il loro declino di essere non più quel paese eccezionale montato sull'eccezionalismo americano per cui loro sono scelti da Dio come gli ebrei e dall'altra invece di essere un paese normale cioè poi alla fine hai governato il mondo ma adesso datti una calmata perché non sei più neanche nella condizione di farlo e la guerra in Ucraina ce l'ha dimostrato perché il military industrial complex americano non è riuscito nonostante i miliardi spesi a fornire le armi sufficienti rispetto a una Russia che veniva data come fosse semplicemente una pompa di benzina che produceva per petrolio e invece i russi sono in grado di sparare miliardi di cattuti di colpi cioè che nessuno aveva previsto che in realtà dietro c'era un sistema industriale in grado di stare in piedi finisco qua era solo questo Elisabetta prego grazie grazie per questo bellissimo intervento molto stimolante su vari fronti io vorrei concentrarmi su una domanda che ha a che fare con la questione che trovo molto intrigante della demografia statunitense e questo riferimento che hai fatto alla questione dell'introduzione di vieto di aborto come uno strumento che confermerebbe questa preoccupazione americana per il suo suprematismo bianco allora non ho assolutamente presente i dati demografici americani quindi ti faccio una domanda che si basa semplicemente sull'assunto che normalmente tanto più basso è il livello diciamo sociale e culturale di una di una donna tanto maggiore è la sua diciamo propensione a fare figli quindi le minoranze razziali che vivono negli Stati Uniti tendenzialmente mi verrebbe da pensare che abbiano un tasso di natalità superiore rispetto a quello delle donne casiche se così è non credo che un intervento di proibizione dell'aborto possa riequilibrare a vantaggio della comunità caucasica il rapporto demografico e mi domando se allora non si debba invece considerare anche il ruolo veramente spaventoso che hanno le religioni la religione nella cultura americana chiunque ha vissuto un po' negli Stati Uniti lo sa e lo può confermare che è quasi inimmaginabile che una persona non aderisca a una qualche chiesa tendenzialmente tutto quello che ha a che fare con le religioni riafferma il principio invece della supremazia in generale della vita il valore della vita e quindi il divieto dell'appunto dell'aborto eccetera quindi mi domando se hai affrontato questa questione anche in questi termini che cosa hai da dirci riguardo sì no l'ho affrontata e chiaramente nel libro c'è un grosso peso rispetto a tutta questa parte degli evangelici che poi sono i born again perché giustamente come mi dice mi faceva osservazione Paolo Ferrero che è valdese dice no vabbè non so quelli sono born again nel senso per differenziarli dagli evangelici diciamo tradizionali per intenderci ma su questo certo c'è stata una strategia pesante e diciamo tutta la battaglia sulla questione Roe contro Wade per cercare di rovesciare diciamo il tavolo e certamente ha visto come protagonisti i predicatori e tutti questi movimenti ma anche i cattolici i cattolici conservatori che negli Stati Uniti sono rilevanti non a caso diciamo Bergoglio ha come nemici tra i nemici principali alcuni cardinali americani li ha sospesi li ha fatti però è chiaro che è una è una questione di lungo periodo sulla questione delle donne ecco il tema è che diciamo questo mondo è patriarcale cioè ripropone il patriarcato nella sostanza totalmente e il tema è che per esempio loro interpretano cioè nei loro manifesti c'è tutto un ragionamento sul fatto di come tutte le politiche che sono state fatte che noi diremmo progressiste no legate per esempio al femminismo quindi al fatto che le donne poi si rendessero autonome e quindi rispetto a questi maschi diciamo ecco e quindi per esempio avessero la possibilità di lavorare che tra le altre poi con il neoliberismo il doppio reddito è fondamentale se no nessuno è in grado di essere ceto medio quindi tutte e due devono lavorare quindi hanno messi al lavoro però la loro interpretazione è che appunto tutto questo e quindi il discorso di lavorare e quindi di questo discorso dell'autonomia così come anche rispetto al controllo della capacità riproduttiva è un discorso che è legato al fatto di rispetto alla popolazione bianca le donne bianche è quello di non fare figli sostanzialmente e questo è una cosa che è un problema che c'era già stato negli Stati Uniti alla fine del secolo scorso del non del secolo scorso del secolo del novecento dell'ottocento quando c'era l'immigrazione che veniva dal sud dell'Europa oppure veniva dagli ebrei del centro del centro centrorientali gli irlandesi no i wasp che sono appunto i white anglo-saxon protestant cioè erano erano l'elite no e ancora oggi sono ancora diciamo come dire alcune famiglie sono le famiglie le dinastie eccetera e e e lì hanno fatto una battaglia sull'aborto l'aborto nasce quella battaglia nasce lì e la medicalizzazione di tutto tutto il discorso riproduttivo per cui dalle per dirla chiara dalle ostetriche si è passato ai medici e i medici erano tutti maschi ovviamente dove il tema era quello che alcuni alcuni stati infatti adesso quando è stato è stato tolto il coso federale alcuni stati si sono trovati con delle leggi del 1890 che sono tornate diciamo a essere in vigore che prevedevano già allora il divieto dell'aborto capito come stiamo messi ecco quindi sì no ecco voglio dire ci ho riflettuto molto e d'altra parte gli evangelici sono una dei pilastri del diciamo del sostegno a Trampiano diciamo dei repubblicani reazionari di destra e sono quelli diciamo che hanno per carità alcuni travolti anche da scandali però sono quelli che diciamo poi alla fine costituiscono uno dei nuclei forti di questo di tutta la parte politica quindi certamente vedremo cosa succede ecco io sono insomma sono un po' preoccupato bene allora se non ci sono altri interventi credo che ci possiamo dichiarare soddisfatti anche per la qualità di di questo dibattito di queste di questi approfondimenti ulteriori c'è una domanda di Marco vedo ah Marco Cinanneschi sì non l'avevo visto pardon Marco buonasera 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 una domanda che riguarda diciamo alcune esperienze che io ho fatto anche durante la pandemia durante la quale sono emerse delle tendenze in persone insospettabili che riguardano diciamo il negazionismo nei confronti del virus e diciamo un forte trumpismo alcune letture che io non avrei mai sospettato delle persone colte forse liberali come stampo forse wasp come famiglie ma che potessero essere così radicali ecco da questo punto di vista la pandemia mi ha confermato l'esistenza e il vero volto di alcune persone con le quali io anche sono stato a contatto e che mi fanno pensare che il primo intervento la prima domanda che è stata fatta ad Alessandro in questo in questa occasione abbia un po' colto nel segno cioè che ci sia ecco quindi aggiungerei all'elenco fatto da Alessandro anche questo connotato negazionista sia nei confronti del cambiamento climatico negazionista anche nei confronti di un virus di un'origine del virus di origine forse antropica cioè legata al fatto che l'uomo ha cambiato gli ecosistemi e forse diciamo ha invaso spazi animali favorendo poi la trasmissione del virus quindi negati entrambi questi aspetti poi su altri punti io non so che cosa pensino esattamente però penso che queste persone che sono rimaste eh sì coperte vorrei dire cioè non hanno manifestato a lungo questa queste tendenze durante la pandemia per una serie di motivi si sono eh schierati ecco hanno si sono manifestati cioè hanno hanno detto come la pensavano ecco e questo lo trovo preoccupante e lo aggiungo come nota a quanto ha detto Alessandro magari non so che ne pensa Alessandro mi farebbe anche a me piacere una battuta su questo grazie ti ringrazio ma io penso che allora siccome io diciamo adesso parliamo di tempi recenti ecco io collego diciamo questa questa cosa che chiamo suprematismo bianco dove dentro è un contenitore dove dentro c'è un po' di tutto perché c'è il suprematismo vero e proprio ma poi c'è si porta dietro tutta una serie di altre cose abbiamo parlato di teorie cospirazioniste ecco e quindi è uno degli elementi fondamentali di questo di questo tutto questo mondo culturalmente parlando ma l'altra parte è quello del collegamento col neoliberismo ricordiamoci quanto il neoliberismo sia stato anche non solo un fatto economico un modo di regolazione del capitalismo eccetera ma è un fatto ideologico che gioca è una mutazione antropologica che c'è stata rispetto a tutto il tema per esempio del rapporto delle relazioni sociali della solidarietà di una cultura diciamo tra virgolette socialdemocratica per intenderci precedente dove il tema era l'individualismo metodologico a questo punto quando tu c'hai la pandemia e lo stato ti dice che tu non puoi uscire non puoi fare devi mettere la mascherina della cosa vai a scontrarti immediatamente contro il discorso della libertà che non è una questione di democrazia è una questione è proprio la libertà di fare quel cacchio che voglio cioè io devo essere libero di poter fare qualsicosa e questo individualismo metodologico ce lo portiamo dietro ed è la cosa più difficile che sarà diciamo per discorso di sinistra da modificare perché è talmente dentro la testa delle persone ci hanno talmente fatto un lavaggio di cervello su tutto che noi anche come aspetti di libertà io non sto dicendo perché poi è chiaro uno deve poter fare delle scelte come persona individuale il problema è se poi questa roba diventa l'unico parametro attraverso il quale tu vedi il resto ricordiamoci cosa diceva la tace la società non esiste esistono gli individui eh ragazzi questo è il punto allora quando tu vai a toccare la libertà dell'individuo questi si incassano e diventano piuttosto aggressivi capito perché non accettano qualsiasi limitazione al fatto che noi viviamo in un contesto di una società e dovremmo vivere così perché se no alla fine è la guerra di tutti contro tutti è quello che è quello che si sta verificando poi alla fine diventa la guerra quell'altra combattuta sui campi di battaglia con i missili ma nella società diventa la guerra di uno contro l'altro e questo è questo sarà la cosa più complicata ammesso che si riesca però è quella necessaria se poi vogliamo anche affrontare uno stile di vita diverso rispetto ai cambiamenti climatici un modello di società diverso perché questa roba qui non ci porta soltanto lo dicono gli scienziati adesso non è che dobbiamo discutere tanto 40 anni e poi siamo estinti io non ci sarò forse molti di noi non ci saremo però abbiamo dei figli abbiamo dei nipoti io ho due nipoti uno ha 4 anni l'altro c'era 7 40 anni significa 44 e 47 anni voglio dire mi piacerebbe che potessero andare oltre ecco voglio dire e quindi nel mio piccolo cerco di cercare di fare un po' di attività come dire cultural politica per cercare di svegliare le coscienze però mi rendo conto che è una questione molto difficile perché veniamo da circa diciamo ormai sono 40 anni in cui la linea politica la linea culturale è stata quella di esaltare le forme di individualismo più esasperato essere imprenditori di se stessi e tutto il resto e quindi poi in realtà noi sappiamo che insomma la solidarietà le forme di solidarietà le forme associative le forme di partito non esiste però ecco appunto delle forme collettive sono fondamentali anche rispetto soprattutto rispetto al tema della democrazia ecco a me personalmente interessa ecco poi magari a questi non interessa tanto la democrazia interessa la libertà personale vabbè non so grazie nella fase nella fase del covid la società è rappresentata dalla sicurezza di tutti gli individui dal contagio reciproco e questo non è stato capito io ho polemizzato con Cacciari e l'altro filosofo su questo aspetto cioè loro vedevano soltanto diciamo la limitazione delle libertà individuali non volevano comprendere che c'era c'era il contratto sociale che veniva rispettato diciamo impedendo a ciascuno una libertà assoluta che comportava il contagio e la possibilità della morte dell'altro va bene grazie anche a Marco se non c'è altro chiudiamo qui e vi torno a ringraziare naturalmente Alessandro Scassellati e vi ricordo che la prossima lezione sarà tenuta dal professor Luciano Canfora il 24 di gennaio alle ore 16 e 30 vi prego di ricordare questa novità alle ore 16 e 30 perché Canfora mi ha chiesto di farla a quest'ora perché la fa dall'università dallo studio dell'università e quindi alle 18 sarebbe troppo tardi scusa ho visto che c'era Marino che ha alzato la mano non so se vuole dire qualcosa era per applaudire e ringraziare saluti vabbè grazie buona serata a tutti grazie a tutti voi grazie a voi buona serata buona serata grazie ciao grazie 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 grazie